L'Alveare, un programma di Radio Capodistria e del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buona mattinata, oggi puntata speciale dell'Alveare qui su Radio Capodistria, oggi noi siamo in diretta dallo studio Hendrix. Buongiorno Paolo Federigo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che bello essere in questo studio, di nuovo. Infatti, come mai siamo in diretta dallo studio Hendrix oggi? Perché avevamo voglia di stare un po' più larghi. In effetti sì, perché oggi c'è un sacco di gente che è venuta a trovare, appunto in questa puntata, che già diciamo sarà una puntata dedicata alla carta. Allora innanzitutto salutiamo i tuoi colleghi che oggi sono venuti anche loro qui in questa situazione molto speciale, appunto dicevamo, dell'Alveare. Io vorrei salutare Daniele Della Toffola. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Che ritorna da noi. Che ritorna? Ecco, Daniele si occupa di educazione ambientale, fa parte, oggi abbiamo tutto il settore educazione ambientale dell'ARPA qui praticamente. Oggi abbiamo tutta la nostra stanza, il nostro ufficio è tutto qui, perché siamo a distanza in un triangolo di pochi metri uno dall'altro. Ecco, salutiamo anche Giada Quaino, buona giornata, benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora sappiamo che oggi avrai anche te un bel po' da lavorare perché soprattutto io vorrei dare il benvenuto agli alunni della quarta G della scuola primaria Rodari di Trieste. Bene. Bene, allora vogliamo sentirvi visto che abbiamo questo pubblico. Benvenuti, ciao. Ciao. Ci sono. Finalmente. Allora io vorrei comunque ricordare che oggi ci potete vedere anche dalla nostra pagina Facebook che è l'Alveare di Radio Capodistria e potete vederci anche dal nostro sito, molto semplice, httpscapodistria.rtvslo.si. Lo diciamo anche per i genitori appunto dei tanti alunni che oggi sono venuti. E allora oggi parleremo di carta. Parleremo di carta ma salutiamo anche le maestre. Assolutamente. Senza le maestre non si può fare nulla. Quindi salutiamo Ariella e Tiziana che sono lì e che parleremo anche con loro. E certo. Dopo arriverà anche il microfono. Allora io ne approfitto anche per ricordare chi ci ha reso possibile questa diretta. Oggi siamo da Landrix. Ringrazio Drago, Drago Ervatin. Ringrazio Andrei Stuper invece dallo studio 01. Per cui insomma siamo in tanti oggi. Siamo in tanti e c'è anche tanta carta sul nostro tavolo. E anche dei libri tra l'altro che parlano della carta e del riciclo. Ma noi Daniel oggi di cosa parleremo in particolare? Ma parleremo dalla storia della carta agli usi più particolari. Anche del cosa fare quando non si usa più la carta perché non si può riciclare l'infinito. E quindi bisogna pensare anche alle alternative. Parliamo anche di un tipo di carta difficile da sostituire. La carta igienica. Ah per cui ci sarà anche questa parentesi. Anche se sappiamo che ci sono delle alternative. Ok 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 ok. Ma ci sono dei dati ad esempio che ci dicono quanta carta noi usiamo ad esempio quotidianamente? Carta in generale? Carta igienica? Diciamo così in questa zona geografica? Ma allora carta igienica per esempio sì. C'è qualche dato che ci parla dei 15 ai 25 kg quasi 23 kg. In un anno? Sì che dipende un po'. In un anno. Dipende un po' dagli usi, dai ritmi. Sì. Vabbè insomma non entriamo anche dal ritmo fisiologico di una persona. Credo che a livello personale come dire ognuno può andare da più volte al giorno ogni due giorni. Uno può fare la teleografia allo stadio. Sai quando le lanciano così e lì si spreca troppo. Va bene. Allora invece tu prima hai detto usi particolari della carta. Quali potrebbero essere? Io ho detto di bambini ad esempio che giocano oggi con degli aeroplani di carta. Beh per esempio ci sono gli usi ludici, gli origamici, ma anche gli usi alternativi che tipo per esempio una carta può essere usata anche per fare pannelli fonoassorbenti, tessuti, addirittura pannelli isolanti. Insomma è un materiale molto pregiato. Ecco che poi sappiamo che sta anche un po' aumentando perché stiamo cercando di ridurre la plastica. Ma questo non è che potrà invece causare l'aumento di imballaggi di carta? Sì. Sicuramente aumenterà il numero di imballaggi di carta, però non lo vedrei come un male. Nel senso che la carta, ok, buttata è un conto, ma utilizzata a scopi insomma nobili è bene insomma. Non è male. Certo, certo, certo. Beh poi insomma come dire le problematiche sono minori rispetto ad esempio quella dell'utilizzo, dell'eccessivo utilizzo della plastica. È meglio ovviamente sostituirla con una carta. Non dimentichiamo che è un materiale che proviene dalla natura, proviene dagli alberi principalmente, per cui insomma ritorna in natura con una naturalità, una ciclicità dei cicli naturali. Certo. Allora io farei così, manderei la prima canzone perché mi sa che c'è un quiz e spero che poi... Preparateli. Voi mi aiutate, pubblico. Ecco, per oggi abbiamo una playlist con canzoni scelte tutte appunto dagli allunni, dicevamo, della quarta G della scuola Rodare. Per cui andiamo subito con la prima canzone, diamo la linea, la regia e poi entriamo proprio nel vivo di questa puntata dell'Alveare. A tra poco. L'Alveare, un programma di Radio Capodistria e del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. E lasciamo anche la musica di Elisa in questa puntata speciale dell'Alveare, oggi in diretta dallo studio Hendrix. Ricordo, ci potete appunto anche seguire da casa, da nostro sito e anche vedere, anche appunto in video streaming, dalla pagina Facebook. Infatti ringrazio Media Yasbez che ha curato questo aspetto. Allora, io temporeggio perché ovviamente le quiz mi mette sempre una certa ansia. Allora, io chiedo intanto alla regia se puoi mettere appunto la base del nostro quiz lì nella regia. Eccola. Ecco. La sentiamo. Allora, bimbi, vi fa un po' ansia questa musichina? Sì. Sì, hanno detto di sì, vedi, per cui obiettivo raggiunto. Chiederei subito alla, ricordiamo, alla classe quarta G della scuola elementare Rodari di Trieste di dire, siete pronti? Sì! Oh là, Barbara Aurizzi. Vi aiutate? No! Barbara Aurizzi è pronta? Mai. Insomma, no, non sono mai preparata. Ha stampato un altro plico di carta. Non è vero. Non è vero, oggi sei stata brava. Allora, noi vi introduciamo, lo diciamo anche agli ascoltatori da casa, al nostro argomento proprio tramite le domande, le cattivissime domande di Paolo Federico. Ecco, chiederemo conferma al nostro esperto Daniele, che è qui alla mia destra. Allora, partiamo. In quale paese è stata inventata la carta? Puoi scegliere tra Egitto, Cina, Italia o Germania? Allora, io direi la 2, però chiedo conferma al pubblico. Voi che cosa dite? La 2. La 2. Allora siamo d'accordo. Accendiamo la Cina, che in questo periodo va un po' di moda. È giusto? È giustissimo Cina, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, per cui non si sa bene. I cinesi, i cinesi. Vedi, allora, per fare la carta, attenzione che questa non la sapete, si utilizza, forse sì, un impasto con più tipologie di legno, di albero, no? Allora, qual è l'albero che viene utilizzato in maggior quantità per fare la carta in Europa? Potete scegliere tra l'abete, l'acero, la betulla o il pioppo? Allora, voi, pubblico, che cosa dite? Pioppo! Beh, io sto sempre con il pubblico. Votano il pioppo e Daniele cosa dice? Ma, insomma, il pioppo entra nell'impasto, ma dipende. Sì, perché ci vogliono fibre lunghe, per cui probabilmente le conifere riescono a dare una fibra molto più lunga, per cui... Era l'abete, era l'abete, cari miei, quindi uno a uno. Beh, no, questa è metà... Perché è metà? Non è metà giusta. Perché è giusta, è vero. Lui è un po' severo, se lui facesse l'insegnante... No, non è vero. Ok, prego. Staremo sempre fuori. Terza domanda. Allora, una tonnellata, da una tonnellata di legno, quindi da mille chili di legno, quanta carta si ricava 100 chili, 500 chili o 800 chili? Questa è più difficile. Ecco, vedo anche... Non lo so, io direi... Da mille chili. Quanta carta? Io forse sarei con la, come dire, la uno, però... 100 chili. Vediamo, Daniele... No, di più, perché la metà... Ah, per fortuna. Sì, 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 500 chili sarebbe. Per cui da metà, o meglio, con un chilo di legno, supponiamo otteniamo un mezzo chilo di carta. Quindi da mille chili di legno otteniamo 500 chili di carta. Bene, allora oggi, visto che parliamo di economia circolare, del fatto di far ritornare in circolazione di scarti che in realtà possono essere risorse, parliamo di raccolta differenziata. Quante volte può essere riciclato un cartoncino? Potete scegliere tra tre volte, sette, dieci o all'infinito? Allora, all'infinito no. Io rimarrei sui cinque, sei, sette, però mani che si alzano. Allora Giada, magari se ti va di dare qualche microfono... Come ti chiami? Dite sempre il vostro nome. Amanda. Ciao Amanda. La prima risposta. La tre, tre volte? Il cartoncino. Accendiamo, tutti dicono di sì. Allora io so, la carta sette e il cartoncino tre potrebbe. Brava sei. Allora facciamo, io sto col pubblico e... Sì, è correttissimo nel senso che però dipende, insomma la carta si rovina, la fibra si rovina e si spezza, per quello non tutte le carte possono essere riciclate per tante volte. Già il cartoncino è già un po' rovinato, per cui non si riesce a riciclare sette volte come... Certo, ma poi tra l'altro non tutta la carta viene riciclata, scusate se apro questa parentesi, ad esempio tipo lo scontrino... Stai anticipando, stai anticipando, non si può, non si può. Allora, a proposito, a proposito, quali di questi materiali non possono essere messi nella raccolta differenziata della carta? Allora iniziamo con... Non vanno dove? Non vanno messi, quindi vuol dire che devi mettere nell'indifferenziato. Nell'indifferenziato. Allora, carta patinata, va o non va nella raccolta della carta? Io dico di no, voi cosa dite? No. No, non va. Bravi. Poi. Allora, giornali? Sì. Sì. Scontrini? No. No. E salviette pulite? Sì. No, sono bravissimi. Correttissimi. Correttissimi, preparatissimi. Preparatissimi, certo. In quale paese è stata inventata la carta igienica? Allora, Cina, Russia, Stati Uniti o Italia? Allora, io... Qui si spara. Stai pensando dei collegamenti tra gli usi dei paesi e l'invenzione della carta igienica? No. Qua mi metti un po' in crisi, c'è dove non c'è il bidet, direi. Dove non c'è il bidet? Per cui ridiciamo... Quindi, scusa, Cina, Russia, Stati Uniti, Italia? Beh, noi ce l'abbiamo. Sì. Quindi potrebbe aggiungere Francia, ad esempio. No, guarda, mi metti un po' in crisi, forse potrei dire... Beh, Cina, hanno inventato la carta, poi non so se è la carta igienica. C'è qualche idea dal pubblico? Vedi che Barbara sta cercando di prendere i miei appunti? No, non c'è nessuna idea. Ah, sì! Stati Uniti? Stati Uniti! Attenzione! È vero. Bravissima. È vero. Allora, dici il tuo nome. Sono Luna. Luna. Luna vincerai un pacco di carta igienica. Lo sapevi o l'hai sparata a caso? No, lo sapevo. Lo sapevi. Lo sapevi. Lo sapevi. Beh, dai. Allora, voto complessivo. Come ce la siamo cavati, caro Daniele? Allora, no. Hai dato due precisazioni. Una che la carta patinata va nella carta da riciclare. Attenzione, attenzione. Dobbiamo fare confusione. Quella con un po' di plastica sopra? No, tipo quella delle riviste. Sì, quella delle riviste. Però dopo parleremo di come si fa a riconoscere. Perché se riusciamo a strappare, va. Sì, ma è una patinata tipo delle riviste da copertino. Certo. Ah, solamente un po' di caolino sopra. Ma va. Ok. 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 Questa è una domanda difficile. È un'altra cosa. No, siamo andati benissimo intanto. Ma sulla carta igienica è interessante perché gli americani l'hanno inventato come carta medica. È vero. Nel senso che hanno detto se la carta, se noi ci puliamo, c'era l'abitudine di pulire con il giornale. Certo. E il giornale si diceva che... Avevo paura di quello che stavi per dire. L'inchiostro dei giornali faceva venire l'emorroio. Ci rimaneva l'articolo stampato dietro. Non lo so, però erano convinti di questo e per cui questo inventore americano disse no, io faccio una carta che decolora e quindi toglie l'inchiostro dei giornali, per cui la mia carta, con la mia carta ci si può pulire senza il problema del far venire le monroidi. E c'è una data? Siamo sulla fine dell'ottocento... 1850, può essere? 1857. 1857. Allora, c'era una cosa fantastica che ho letto sulla carta igienica, questo Joseph Gayetty che l'ha inventata, che per venderla va scritta una cosa, visto che era carta che proviene dagli alberi e sotto aveva scritto per farla usare senza schegge. Bellissimo. Fantastica. Beh, insomma, giusta precisazione. Per sicurezza, non ci sa mai. Allora, i voti oggi li dà Daniele, dai, ci meritiamo un bel voto? Molto sopra la sufficienza, direi fra l'otto e il nove. Il nove, voti italiani. Sì, italiani qui vuol dire tra il quattro e il cinque. Ok, allora noi invece abbiamo tante cose di cui chiacchierare con i nostri alunni della Scuola Primaria Rodari di Trieste, però diamo la regia e ci sentiamo alla prossima canzone. A tra poco. L'Alveare, un programma di Radio Capodistria e del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. E lasciamo la musica. Noi siamo in diretta oggi dallo studio Hendrix di Radio Capodistria, puntata dell'Alveare. Oggi assieme alla Scuola Primaria Rodari ricordiamo l'Alveare, trasmissione di Radio Capodistria e dell'area dell'ARPA del Trieste Venezia Giulia. L'area è il vostro, come dire, settore, quello educativo. Educativo, sì, il Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale. Allora, oggi noi abbiamo i nostri esperti di carta, perché gli esperti sono loro. Poi ovviamente qui al nostro fianco c'è Daniele, che ne sa e ne sa tante, ma ovviamente loro si sono preparati. Allora, partiamo con il primo punto? Eh beh, partiamo con una domanda, direi, fondamentale. Ecco, noi vorremmo chiedere appunto al nostro pubblico se c'è qualcuno che ad esempio sa come nasce la carta. Come nasce la carta? Ecco, c'è qualcuno che alza la mano e che magari ce lo vuole... Ah, bene, una mano. I nostri nomi prima, sempre, ricordatevi. Sono Mattia. La carta si produce prima tagliando gli alberi, poi gli alberi vengono scortecciati e vengono tagliati in chips, poi avviene la defibrazione, la lisciviazione e la dissoluzione, l'epurazione, il raffinamento, il mescolamento, la cassa di flusso e le sa tutte. Le sa tutte, sì. Le sa tutte, brava, 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 brava. Bravissimo, bravissimo. Un attimo, poi ci sono le presse umide e la seccheia, poi c'è la calandratura e un trattamento chimico superficiale, infine c'è la seccheria e l'avvolgimento in bobina. Aspetta, ma Daniele, tutto questo processo quanto dura? Ma in qualche minuto, nelle macchine di grande portata, cioè praticamente già dall'Ottocento, fine Settecento, Ottocento, hanno cominciato a fare delle macchine che vanno in continuo. Perché prima, in pratica, veniva fatto l'impasto, quello che Mattia ha detto, che in pratica creava un impasto, veniva poi raccolto con delle specie di telaini e i maestri cartai tiravano su questi telaini con sapienza in modo tale da fare tutti i fogli che avessero lo stesso spessore e la stessa forma, ma la forma era data dal telaino, ma in realtà lo spessore del foglio era un'abilità che aveva il maestro cartai. Poi con le macchine che invece vanno in continuo si è fatto un processo automatico, che ancora oggi viene usato e quindi dalla fine del Settecento non si è evoluto più di tanto, insomma, che fa sì che dall'albero al foglio finale di carta in realtà passi pochissimo tempo, insomma, con le macchine automatiche. Beh, comunque è probabilmente uno dei materiali che noi utilizziamo di più da più tempo, a casa nostra, pensiamo dagli imballaggi e la carta che abbiamo anche noi sopra i nostri tavoli, quindi è una cosa che parte… Praticamente da quando ti sveglia, quando vai al lavoro, anche… La carta ti accompagna. La carta ti accompagna sempre. Sappiamo che c'è qualcuno esperto della storia della carta. Le origini della carta. Dove parte? Già dai quiz si parlava della Cina. Allora, vediamo, arriva un microfono. Come ti chiami? Ciao, sono Manuel. Ciao Manuel. La fabbricazione della carta da corteccia è nata in Cina e nell'anno 105 l'ufficiale di corte, Kailun, la descrive per la prima volta. Il materiale era la corteccia del gelso da carta filtrata in uno stampo di bastoncini di bambù. Ah, vedi, c'è qualcun altro? Si integra. Ok. Ciao, e tu? Mi chiamo Ambra. Ma in scavi archeologici effettuati in una tomba della prima metà del secondo secolo avanti Cristo si sono ritrovati dei frammenti di carta con traccetta una mappa. La carta fu introdotta in Europa dagli arabi. E infatti si pensa che la prima cartiera fu stata costruita in Sicilia sotto dominio islamico e che per la fabbricazione si usassero i cascami del cotone. Eh certo, ma che bravi. Ecco io tra l'altro Paolo... Tu sei mai chiesto dei cascami da dove arriva la carta che utilizzo ogni giorno? Beh, sì. No, perché fai l'alveare. Allora io tra l'altro faccio l'alveare, però vedo una domanda difficilissima. Ma sai che c'è ancora una mano alzata? Prego. C'è ancora un'intervista perché sono preparati. Ciao, ciao, sono Serena. Serena, ciao Serena. Verso la fine del dodicesimo secolo fu istituita la prima cartiera nel territorio italiano cristiano da Poles da Fabriano che la impiantò sul Reno presso Bologna. Ah. E tra l'altro quella carta esiste ancora, credo. Sì, la famosa carta di Fabriano. Sì, esiste. I blocchi dove le prendevi a scuola per fare i disegni? Ebbè, ma credo anche per la stampante. Anche per la stampante, sì. Attualmente, credo. Vuole dire ancora qualcosa, vediamo. Questa produzione si diffuse in tutta Europa anche perché fu realizzata la stampa Caratteri Mobili da Jonathan Gutenberg. Ah, vedi. Parte la stampa e parte la carta, bene. Ma quanto sono bravi. Sono bravi, sono preparati. Ecco, no, però io mi spavento un po' la prossima domanda perché io avrei già una difficoltà ad esempio a dare io una definizione di ciò. Vero, allora, sì. Noi quest'anno abbiamo sentito parlare, abbiamo dedicato molte puntate a due parole molto speciali. Si dicono, anzi si dicono, sono economia circolare. C'è qualcuno di voi che ci spiega che cos'è economia circolare? Questa è difficile. Questa è veramente difficile. Questa è veramente difficile. Ecco. Vediamo, vediamo. Buongiorno, sono Aurora e l'economia circolare è l'economia pensata per potersi rigenerare da sola e viene divisa in tre fasi fondamentali. Ossia, uno, un'economia con cui gli scarti della produzione diventano fonte di materia prima secondaria. Due, si riduce lo spreco d'uso del prodotto. Tre, si fa il male di missione della materia perfettamente sana, rivedendo le pratiche di obsolescenza programmata. Wow, ma che bravi. Complimenti anche alle maestre, Dariela e Tiziana, perché sono bravissimi. Allora, si parla di economia circolare. Io volevo chiedere giusto a Daniele un attimino un esempio di economia circolare. La prima cosa che ti viene in mente se parliamo di economia circolare. L'ho spiazzato. Carta. La carta. Ma per esempio, sì, la carta potrebbe essere uno di quegli esempi dove può essere riciclata non sempre, ma insomma molte volte. Fino a sette volte comunque è bastante. Ma il concetto di economia circolare in qualche modo si contrappone a quello dell'economia lineare in cui devo fare una cosa e porto un elemento da A a B, supponiamo. Invece nell'economia circolare si immagina che tutti i prodotti in qualche modo vengono sempre rimessi all'interno di un ciclo, in modo tale che non ci sia mai uno scarto, ma ogni scarto possa diventare una risorsa per un altro processo produttivo. Certo. E quanto siamo lontani o vicini dalle realizzazioni di tutto ciò? Beh, grandi passi sono stati fatti e potremmo anche dire un'altra cosa, che è una cosa che sembra ancora un po' difficile, velocissima. L'industria 4.0, che è l'industria che in pratica coinvolge le macchine che danno dei numeri, danno dei valori, che possono aiutare a evitare gli sprechi. Quindi l'economia circolare va d'accordo con l'industria moderna che usa i dati prodotti dalle macchine. Bene, bene. Allora, questa, come dire, siete stati veramente bravissimi, ma chiacchiereremo ancora insieme per quanto riguarda la carta nella seconda parte dell'Alveare. Adesso diamo la linea alla regia, ci sentiamo un po' di musica e poi l'informazione qui su Radio Capodistria. A tra poco. L'Alveare, un programma di Radio Capodistria e del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona mattinata a tutti in diretta dallo studio Hendrix di Radio Capodistria. Oggi puntata speciale dell'Alveare. Abbiamo lo studio con dei bellissimi ospiti, gli alunni della Scuola Primaria Rodare di Trieste. Tra l'altro ricordo che questa puntata la potete anche risentire in replica sabato mattina alle ore 11, anche se presumo che voi siate a scuola sabato mattina alle 11, però magari i genitori... Andate a scuola il sabato? Ah no? No, ma allora potete veramente... Non si va più a scuola il sabato. Basta, non si va più a scuola. 103.1 e 103.6 ecco. Bene, allora in questa puntata che parliamo di carta, stavo immaginando quanta carta abbiamo a casa nostra. Piena. Sì. Perché se pensi c'è un sacco di roba dai libri, che poi parleremo anche dei libri. Certo. Ah, una cosa che mi ha sempre colpito, il packaging, gli imballaggi. Quando torni a casa della spesa, spesso disimballi tutto, cioè quello che ti serve veramente poi per mangiare, e ti resta un mucchio enorme di carta che butti via praticamente subito. Di solito cartoncini e cose. Allora io vi voglio chiedere a Daniele, quante degli imballaggi sono in carta oggi? Cioè resta sempre nel primo posto la plastica o anche la carta? Beh, insomma, la plastica assume un valore alto, però la carta anche, insomma. Nel mondo il 40% degli imballaggi è fatto da carta, in qualche modo, insomma, da materiale di origine cellulosica. In Italia è un po' meno, siamo intorno al 30%, però comunque è un valore molto alto, che vuol dire che dalle cassette in cartone che contengono magari frutta o altri materiali, sono fatti di carta ed è, insomma, una cosa buona, nel senso che sostituisce o abbassa la quota di plastica, che poi sappiamo che purtroppo fa... Qualche problema lo crea. E poi, importante ovviamente è la parte del riciclo, no? Soprattutto degli imballaggi, di molti materiali che poi possono ritornare a nuova vita. Sappiamo che qui c'è un'altra esperta a questo punto, invece, di come si ricicla la carta. Chi è? Chi è? Eccola qui, alza una mano, arriva il microfono. Ciao, sono Luna. Ciao Luna. Allora, come si ricicla la carta? Ce lo spieghi tu? Sì. Allora, si mescola la carta usata con acqua e sostanze chimiche. Poi la si sminuzza e riscalda fino a quando le fibre di cellulosa si dividono. Poi vengono eliminati i residui di inchiostro, sbiancata e trasformata in una nuova carta. La carta si può riciclare sette volte e ottenendo un buon prodotto di qualità. E se ricicli una tonnellata di carta di giornale risparmi una tonnellata di legno. Ah, vedi, le salte tutte, anche lei. Assolutamente, bravissima. In questo processo, Daniele, si risparmia? Si risparmia energia. Si risparmia tante cose. Abbiamo seguito tanti passaggi. E energia e alberi, come giustamente detto. Perché se partiamo da un impasto di carta già fatta, noi saltiamo un pezzo del processo che abbiamo descritto prima. Cioè, tutto il pezzo di preparazione degli alberi, sminuzzamento, scotteggiamento, eccetera, eccetera, non c'è. E quindi c'è un risparmio di acqua e di energia. Oltre alla metà dell'energia, cioè, praticamente, producendo una carta riciclata, risparmio metà dell'energia rispetto a partire dal legno. E risparmio 200 volte di acqua, nel senso che può servire mediamente 400 litri per fare un chilo di carta e due litri per fare un chilo di carta riciclata. Quindi è alto. Ma in media quanta carta si riesce a riciclare? Cioè, poi, per esempio, tu abbia dei dati che riguardano l'Italia. Però potrebbero essere anche abbastanza simili a quelli poi europei. Si risparmia tanto, nel senso che la carta, per dirla poi concretamente, è l'elemento più riciclato tra tutti quelli che si cerca di riciclare. Di riciclare, appunto. Sì, però c'è una quota ancora alta, o c'è bisogno di una quota alta ancora di legno vergine per ottenere della carta. Nel senso che non ce la facciamo a riciclarla per grandi numeri, per grandi quantitativi. Ecco, perché io, ad esempio, ho letto, ho sentito dire che non tutta la carta viene appunto riciclata, perché magari ci sono determinati tipi di carta che non hanno molto valore di per sé, no? Magari rispetto a quello che può essere un libro, un giornale. Cioè, in determinati tipi di carta... È un pregio diverso, anche proprio dalle carte di origine, nel senso che la carta del giornale è una carta pregiata e che è adattissima appunto al riciclaggio, anche il cartone, anche. La carta patinata di cui parlavamo prima, quella delle riviste, molto meno, perché ha molta argilla dentro che la rende lucida e quindi non è proprio adatta. E la carta igienica? La carta igienica? No, la sentiamo dopo. Io so che c'è una storia particolare sulla carta igienica, ma forse la sentiamo dopo. Però io vorrei sentire qualche aneddoto magari dei nostri allunni. Ecco, voi ci volete raccontare qualcosa sulla vostra esperienza con la carta o comunque con il riciclo? Ecco, Giada, lui è stato il primissimo così ad alzare la mano, poi possiamo passare un pochino il microfono. Come ti chiami? Ciao, sono Daniel. Ciao Daniel. Una volta, quando avevo cinque anni, io e mia mamma eravamo andati a prendere la carta igienica e avevo visto la carta riciclata e ho chiesto a mia mamma, mamma ma quella carta è già sporca di cacca. No, non la riciclano con tutta, non si può riciclare. No, ma non si può, non si può, però in effetti magari la carta riciclata la si differenzia. Prego, Daniel vuole dire ancora qualcosa? Quando andavo al carnevale e andavo al paradiso, era una discoteca, quando Paolo tu eri giovane forse andavi a giocare a pallone, c'erano sempre i coriandoli per terra e ci si metteva seduti a gambe aperte e un bambino si spingeva e prendevano tutti i coriandoli. Ah, un bambino si sedeva a gambe aperte, l'altro lo spingeva e prendevano tutti i coriandoli. Ah, l'ha utilizzato come scopa per pulire praticamente la discoteca, benissimo. Ma è interessante, ringraziamo Daniel e il suo appaglio. Grazie. Daniel, grazie, ma scusa, ma poi la mamma ti ha spiegato che quella era la carta riciclata. Così che non era fatta... La tassi è messa solo a ridere. Eh beh, ma... Ha fatto bene, ha fatto bene. Ecco, però in effetti è vero perché la carta riciclata... Però se posso dire, quando si può fare appunto della carta igienica con la carta riciclata, no? Però in America per esempio non la amano perché la carta igienica fatta con la carta riciclata non è morbida come fatta con... Sì, ma sti americani vogliono tutte le cose nuove. Scusa, ma dici che è ruvida come... Non lo so, io mi ricordo che una volta storicamente dicevamo che questa carta igienica è come quella delle stazioni dei treni. Sì, 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 il problema è questo, ma in Europa invece ne usiamo il 20% di carta riciclata per fare la carta igienica, per cui insomma... Noi siamo più... Sì, 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 sì. Certo che oggi parliamo di carta, però finiamo sempre sulla carta igienica. Ma è perché quella è insostituibile, quasi, quasi. Ecco, beh, non mi avevi detto che la puntata era su una carta igienica. Ma non so, è stata una mia fissazione, allora vediamoci qualche altra... No, facciamo così, mettiamoci una canzone sempre scelta perché voglio omettere un po' di canzoni visto che le scelte sono state fatte appunto dai nostri ragazzi, per cui ci sentiamo alla prossima canzone e poi ci racconterete ancora alcuni anedoti. Linea alla regia, tra poco. L'Alveare, un programma di Radio Capodistria e del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. E lasciamo la musica dei Queen. A proposito, avete visto voi i film sui Queen? Visto che ce l'avete scelta, allora... No. Non l'ho visto, però sono molto rocchettari. Ecco, allora ritorniamo invece appunto al nostro argomento di oggi che è la carta. La carta, sì, ci sono ancora, c'è ancora qualche aneddoto in giro, qualche storia. Infatti, io da tutta la puntata che aspetto il momento degli aneddoti con... La storia di carta. I nostri... Una mano si alza. Ragazzi. Sono Magenta. Sì. Ciao Magenta. L'impressione dei disegni in rilievo sulla carta igienica non è solo per abbellirla, ma è anche per renderla più assorbente e spessa. Ah, vedi, non volevamo più parlare di carta igienica, ma ritorna sempre. La carta igienica ritorna sempre. Vedi, i disegni sulla carta igienica ci sono aziende che fanno loro pubblicità stampando il logo sulla carta igienica. Certo. Come se uno stesse a guardarla lì tutto il giorno, però effettivamente funziona, non lo so perché. C'è ancora un aneddoto? Vediamo. Allora. Sì. Come ti chiami? A scuola noi abbiamo deciso di fare delle collane con la carta. Ah. Con la carta. E sono venute belle queste collane. Le perline con la carta. Ah, bene. E sono diventate, sono belle? Non si sa perché sono... Stanno ancora in lavorazione. Sì, sono belle e se le porterete, benissimo. Eh, beh sì. Allora, senti, dopo, come dire, diamo spazio ancora a degli altri aneddoti, ovviamente se ci sono. Però io so che questa classe è andata in gita in Austria. Vanno sempre in gita in Austria. Vanno sempre in gita in Austria. Anche l'altra volta. Ecco, c'è un progetto poi. C'è un progetto. Forse. Ecco, io così vorrei chiedere magari alla maestra Ariella o alla maestra Tiziana se magari così ci possono un pochino raccontare. Sto indicando vicenda perché hanno paura di... No, no, no. Qualcosa su questa gita? Il progetto e il viaggio in Austria è stato fatto all'interno del progetto No Waste, portato avanti dall'Università di Trieste, del Dipartimento di Scienze della Vita. È un progetto interregionale tra Austria e Italia, l'Italia e le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. E siamo andati appunto a visitare un centro per lo studio della lavorazione delle fibre del legno e poi una scuola, ci siamo stati ospitati. Insomma, è stata un'esperienza molto positiva e come conseguenza, simpaticissima, ha avuto che anche i bambini e gli insegnanti austriache verranno a fine maggio da noi a visitare la città. Insomma, porteremo avanti il discorso appunto della sostenibilità. Certo, beh, che bello. Io così vorrei parlare un attimo di libri. Di libri, vai. Di libri, se per voi va bene. Perché poi ovviamente si parla di non sprecare la carta, si parla comunque di utilizzarne meno, si parla comunque di riciclare. Però sappiamo che anche magari ultimamente la si sta sostituendo, grazie al digitale. Ad esempio, purtroppo tante riviste, anche da me molto amate, ultimamente hanno chiuso, hanno smesso di stampare, sono diventate delle riviste online. E poi c'è anche chi legge direttamente con il tablet. Il famoso libro. Ecco, io però vorrei chiedere invece ai nostri ospiti, a voi piacciono invece i libri? Cioè, vi piace? Ne possedete? Avete una piccola biblioteca, una piccola libreria a casa? Cosa ne pensate? C'è qualcuno che vuole parlare? Ah, una mano, due mani, tre mani. Oh, due, tre mani. Tre mani, ecco. Prego. A me piacciono leggere i libri cartacei e adesso sto leggendo un libro di avventura che il titolo è Il bacio del serpente. Ok, ok. Ecco, e voi invece quante mani alzate? Cioè, l'imbarazzo della scelta, chissà se riusciremo a sentire tutti. Sono Filippo. Io sto leggendo un libro di avventura che si chiama Le avventure di Mark Twain. Ah, vabbè. Eh sì. Io a casa ho così molti libri che... Che bello. Bene, qui tutti i libri di carta. Ecco, beh, è bello che comunque questa abitudine, insomma, fondamentale rimanga. Allora, io vedo tante mani alzate su questa domanda, per cui così chiedo a Giada se può passare ancora un pochino il microfono. Buongiorno, sono Aurora. Ciao Aurora. E a me piacciono leggere i libri cartacei e sto leggendo un libro di avventura, La coda e il cocodrillo. Ah, ma non c'è nessuno che legge i libri sul digitale, come si dice? No? Sì. È così. Mi piace di più perché ti aiuta, ti aiuta. C'è anche qualche vantaggio, insomma, poi l'importante è leggere. Tu leggi il digitale, Barbara. E ogni tanto capita che magari devi fare delle interviste, così hai bisogno subito del libro e magari te lo mandano e ti dico, poi ti manderò il supporto. Però sai, poi dipende, io leggo col tablet. Ad esempio al mare è molto difficile quando c'è molto sole, è anche una cosa molto scomoda, ecco, diciamo. Ma proprio potendo scegliere... Io resto un tifoso del vecchio libro, andiamo avanti. Sempre inerente nel discorso della carta, io ho preso questo libro Marco Polo, il milione, dalla libreria della scuola, che è comunque un libro storico e mi piace molto la storia, è la mia materia preferita. E comunque mi chiamo Ambra. E comunque, brava Ambra, complimenti. Noi abbiamo ancora pochissimi minuti. Noi abbiamo proprio qua due libri, così chiedo magari a Daniele o a Giada se ci volete raccontare qualcosa, perché sono, come dire, dei libri proprio sulla carta. Appunto, fanno parte di un progetto che è ovviamente insomma un progetto anche dell'ARPA e dell'area del Friuli Venezia Giulia. Ecco, io leggo solo una frase. Cosa succede se un'intera città di uomini, grandi consumatori di carta, scoprono un'alternativa alla produzione di tanti rifiuti? Che cosa succede se un uomo fatto di carta, divoratore di boschi interi, scopre che esiste un'altra possibilità, oltre a quella di mangiarsi albero su albero? Giada, ci puoi dire di quali libri si tratta? Sono degli albi illustrati, i titoli sono appunto L'uomo mangia carta e Meno carta mangia carta, editi d'arte bambini. Sono frutto anche di una collaborazione dell'autore Simone Baraccetti con il nostro ufficio, quindi collaboratore regionale di educazione ambientale, e vogliono proprio portare sull'albo illustrato la tematica del consumo della carta e di come possiamo fare per consumare meno carta. Certo, per cui insomma diciamo che si cerca proprio, grazie a questi bellissimi libri, anche di sensibilizzare da subito su quello che poi è l'argomento della carta e del riciclo. Prego Daniele. Sì, solo un elemento sulla differenza fra leggere su carta e su leggere sull'iPad, o comunque su un LCD, un OLED, che non sono molto diversi. Nel senso che la lettura su carta rinforza maggiormente il ricordo, mentre quella su cosa, su tablet, su computer o anche su cellulare, in realtà interferisce con la vista e interferisce con la produzione di melatonina, e quindi ci disturba l'addormentamento e il sonno, perché la melatonina in qualche modo è l'ormone del sonno. Quindi insomma andare nella direzione di mantenere anche la lettura su carta e la conservazione degli scritti e della memoria sulla carta è una cosa che sarebbe bene che rimanesse viva e accesa nella nostra società. Certo, certo. Beh, insomma, questo è un buon consiglio. Io penso che comunque l'importante sia leggere piuttosto che non leggere. Ecco, però effettivamente... Sai, tu mi dici una che ha i vinili a casa e continua ancora a comprare, perché è ovvio che magari anch'io preferisco l'analogico. Prego. Sì, no, magari potrebbe andare bene che tutto al giorno magari leggi su computer, ma la sera prima di addormentarti leggi sulla carta. Ebbè, è molto rilassante, ecco, diciamo. Diciamo che quello non è spreco di carta. Allora, cari, ai nostri ospiti, noi purtroppo siamo arrivati quasi in chiusura, abbiamo ancora pochi minuti. Pochi minuti, sì. Due minuti, ecco. Due minuti. Gestisci li. Io? Ma vedimi, mi spiatti. No, una cosa che volevo fare in velocità. Se dovete scegliere il libro in carta o il quaderno, perché ovviamente è anche facile sostituire un quaderno, sappiamo che c'è un loghetto particolare che ci può dire anche che quel quaderno o quel libro è stato fatto in un modo diverso, diciamo, no? Sono Letizia. Il logo l'hanno abbreviato in FSC, che vuol dire che gli alberi sono stati tagliati in maniera sostenibile. Delle norme del Forest Swordship Council. Vedi che roba, sono preparatissimi. Ecco, bene, cercate quelle tre letterine lì, dicono che comunque quella carta è stata prodotta in un certo modo, no? Certo. Allora, io so che loro hanno, c'è un momento in particolare adesso, sai che abbiamo pochi secondi, ma tutte le cose di cui loro si sono preparati su tutta un'altra serie di, potremmo andare avanti a fare altre quattro puntate, faranno un lancio verso di noi degli aerei di carta dove, che sono stati fatti recuperando tutti gli appunti che hanno portato, stanno per lanciare verso di noi 50 aerei di carta. Allora, chi prenderà, chi mi prende in faccia, verrà punito, no, vincerà un premio. Allora, io vi chiedo ancora un attimo, vorremmo fare un attimo i saluti, così poi vi chiederò anche un bel ciao per i nostri ascoltatori. Vorrei ringraziare Drago Urvatine, che ha curato la parte tecnica, assieme anche ad Andrei Stupara, dallo Studio 01. Vorrei ringraziare Emilia Yasbez per la diretta streaming, ricordare che a breve troverete il filmato, però ci potete riascoltare sabato mattina alle ore 11 e poi vorrei ringraziare appunto ovviamente l'ARPA, sia Daniele che Giada e le maestre Arielle e Tiziana appunto che hanno portato in visita qui a Radio Capodistria gli alunni della scuola primaria Rodaria. Allora, fatevi un bel applauso perché siete stati bravissimi, grazie a tutti, potete partire con il lancio, linea la regia, un saluto a tutti, due, tre, via! Buon proseguimento di giornata, linea la regia, ciao! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao!